In realtà alcune applicazioni potranno anche essere prese dalla Camera sia come ispirazione che come codice magari per adattarle ad uso interno. Gli stessi sviluppatori potranno essere chiamati dalla Camera per rifinire le applicazioni chiaramente dietro pagamento e apposta per la Camera dei Deputati altrimenti il resto sarà sicuramente utile alla cittadinanza. Queste sono applicazioni di hacking civico e quindi che mettono in contatto la cittadinanza, la società civile con i parlamentari.